tredicesima lezione che bella famiglia vedi mamma questo è il mio compito per domani la mia famiglia io mi chiamo Roberto Brambilla e ho sei anni mio padre si chiama Davide e conosce un sacco di storie divertenti mia madre si chiama Francesca lei è bellissima mia sorella si chiama Lisa era solo quattro anni io e mia sorella litighiamo spesso ho due cugine cugini Giorgio e Chiara sono i figli i figli di mio zio Anibale e di mia zia Brigida mio zio Anibale è il più simpatico di tutti i miei zii i miei nonni preferiti sono i genitori di mio padre hanno una grande casa in campagna mio nonno ha anche un cavallo che si chiama Placido mia nonna prepara sempre la torta di mele che è proprio la mia torta preferita io mi chiamo Rosy e lei mi chiamo Raffaele Esposito come si chiama tuo fratello si chiama Roberto esercizi mio padre si chiama Davide e conosce un sacco di storie divertenti e lei signora come si chiama mi chiamo Francesca Brambila sono medico lavoro all'ospedale di Monza la mia torta preferita è la torta di mele i miei non abitano in campagna io e mia sorella mi chiamo spesso